L'effetto coronavirus stravolgerà tutte le statistiche. Gli ultimi dati consolidati per ora si fermano a fine 2019. Il mercato immobiliare residenziale in provincia di Sondrio, secondo i dati di recente resi noti dall'osservatorio dell'Agenzia delle Entrate, lo scorso anno ha registrato rispetto al 2018 un aumento di compravendite del 9,7% dopo Mantova, la miglior performance in regione. Le transazioni immobiliari sono state 1.815 contro le 1.655 dell'anno prima. Dato promettente nota l'Agenzia pur a fronte di uno scenario macroeconomico ancora avverso e in un contesto congiunturale di fragilità e incertezza. L'indagine suddivide la provincia in 12 macro aree omogenee più il capoluogo. Escluso il boom di transazioni più 40,8% nella macro area Bregaglia-Val San Giacomo che però incide per meno del 2% sul mercato provinciale, gli incrementi più significativi riguardano la Val Malenco più 32,4%, il Chiavennasco più 26,5%, Sondalo-Alta-Valtellina più 21,8% e una quota del 21,2% sul totale delle compravendite provinciali. Più 21,7% in Vallespluga uscita da una lunga fase di ribasso. Di minore entità le crescite riguardanti le macro aree valli del Bitto Valtartano, Teglio-Aprica, Valmasino-Retica-Ovest, Retica-Est. Il calo più significativo si registra nel tiranese, meno 10,7%. Continua la sua discesa a Sondrio, meno 4,6%. Soffre anche l'altra principale area urbana, il Morbenese, meno 3%, meno 3,1% per la pedemontana aerobica. In aumento l'indice IMI, intensità del mercato immobiliare che misura il rapporto tra numero di transazioni e unità immobiliari esistenti. I segnali di risalita nel complesso alla vigilia dell'emergenza sanitaria dunque c'erano, anche se da un'analisi di più lungo periodo si evince come il mercato degli immobili residenziali in Valtellina e Valchiavenna, ancora assegnato dal decennio nero 2005-2015, si sia contratto mediamente a partire dal 2004 del 40%. Quanto a livello dei prezzi, la variazione a livello provinciale nel 2019 è stata dello 0,6%, il picco più 1,9 in Alta Valle, dove la quotazione media, la più alta in provincia, è di 2.435 euro al metro quadro, seguita dalla Valle Spluga 2.190. In calo ormai da quattro anni consecutivi, Sondrio, dove le quotazioni tra 2018 e 2019 sono scese dell'1,7%, con un prezzo medio di 1.379 euro al metro, appena sotto la media provinciale 1.401 e valori sotto i 1.800 euro anche nelle zone di maggior pregio. Nel capoluogo cresce l'interesse del mercato residenziale per le frazioni, inflessione e le compravendite in centro. Prezzi in calo anche in Valmalenco.